Grazie a tutti. Tetra-Hidro-Campinone. Ma cosa sta dicendo? Sul tecnico. E poi l'economia che non funziona. Operazioni twist e quantità di leasing che non hanno avuto l'aspetto di sperato, certo. Ma cosa sta dicendo? Sul tecnico. E poi io ho già chiesto aiuto ai miei amici, ma loro vogliono troppo. Toglie, maffia e mandolini. Danke. Eh, Annie Kraffen su Michael Schumacher. Danke, sto c***o. È andata proprio così. Certo che con degli amici del genere è difficile fare andare avanti le cose. Eh sì, perché qua se cado io, cadono tutti. Che cosa intende? Eh, che cosa intendo? Salutate? Cheese! Arrivo! Allora, dottore, che cosa ne pensa? Non si preoccupi, si sistemerà tutto. E lei come lo sa? Sul tecnico. Allora, dottore, che cosa intendo? Ciao!